Manca meno di un mese all'edizione 2023 di Oro Arezzo, la fiera internazionale della produzione orofa ospitata dall'Arezzo Fiere Congressi. Giunta la 42esima edizione, la manifestazione in programma dal 13 al 16 maggio si appresta ad ospitare 350 buyers internazionali in arrivo ad Arezzo da 45 paesi tra i principali mercati di sblocco del settore orofo gioielliero italiano, con una forte presenza anche di retailer provenienti da nord e sud Italia. Si rinnoverà anche il layout espositivo per rilanciare la centralità della manifattura orofa agli espositori, in crescita del 15% rispetto all'edizione dell'anno scorso, si distribuiranno all'interno del quartiere fieristico Aretino, secondo un nuovo percorso di visita. Arezzo si appresta dunque a brillare della sua luce più bella, provando a lasciarsi alle spalle un periodo difficile con i tanti colpi messi a segno in importanti realtà industriali del territorio.